Sono felice di essere qui, a Sacile, che comunque è nella mia provincia, per provare un qualcosa che non ho mai fatto in vita mia, lo street boulder. È un'attività sicuramente stimolante, interessante, soprattutto per i giovani che si avvicinano all'arampicata. Insieme abbiamo sviluppato questa passione comune che ci ha portato a condividere belle esperienze di amicizia e soprattutto di fiducia, perché quello che facciamo noi è camminare in equilibrio su una fettuccia larga di due centimetri. Può sembrare uno sport estremo, però non è solo uno sport, è anche un modo di vivere e interpretare quello che ci circonda. Questa fune funge come ponte tra culture, mentalità e nazionalità diverse. Il bike trial nasce dallo sport del trial con la moto. Negli ultimi anni lo sport del bike trial, che si è diviso poi in diverse discipline fino ad arrivare anche al freestyle, unire il freestyle e il bike trial, sta prendendo piede alla grande e vedo che un sacco di ragazzi e bambini si stanno appassionando a questo sport. Sembra sempre di non riuscire a fare le cose, ma se si ha la capabilità di continuare si riesce sempre a raggiungere i propri obiettivi. E' un sacco di ragazzi e bambini si stanno appassionando a questo sport. La manifestazione è andata direi benissimo, siamo oggi verso la conclusione di queste due giorni che è stata davvero emozionante e piena di pubblico, siamo riusciti davvero a riempire Sacile e la piazza come ci prefigiavamo negli intenti e quindi siamo veramente soddisfatti. Grazie per la visione! Grazie per la visione!